amici ben tornati sul canale 9mila giri elaborazione autosportiva abbiamo promesso un po di tempo fa abbiamo fatto uno short sull'argomento una puntata o una serie di puntate diciamo mi è venuta quest'idea associando io sono un appassionato di orologio collezionista di orologio ovviamente per il mio lavoro sono anche un appassionato non collezionista di auto ma comunque un appassionato che conosce un pochino il mercato delle auto quindi mi è venuta l'idea di fare una serie di puntate associando un particolare orologio a una particolare macchina partendo dal concetto che io sono un amante appunto di orologi non particolarmente recenti di orologi diciamo un pochino più vintage che abbiano una storia un sapore diverso da quelli smartwatch o cose del genere che per me sono cose assolutamente fuori dai miei dai miei canoni quindi mi è piaciuta questa questa idea e volevo appunto introdurre vediamo un attimo come va questo video per poi magari farlo seguire da altri video che appunto associa gli orologi alle macchine come se fossero orologi e motori gioie e dolori in sostanza un po come avveniva per le donne e i motori io inizierei appunto il primo che vi voglio presentare è questo questo orologio particolare è un rolex daytona quindi un cronografo la particolarità di questo orologio un 16 5 2 3 del 1989 la particolarità di questo orologio che è stato il primo cronografo rolex successivamente ai cronografi prima del 1988 che erano a carica manuale quindi questo è il primo a carica automatica e la particolarità che rolex ha introdotto questo questo calibro andandolo a mutuare dalla zenith quindi allora la zenith era la l'azienda leader che aveva fatto un calibro eccezionale che si chiama è il primero rolex ha fatto un accordo con la zenith facendo ovviamente una serie di oltre 200 modifiche sul calibro però sostanzialmente questo è un calibro zenith è il primero a tutti gli effetti alta particolarità di questo di questo modello è la scala non so se si riesce a vedere la scala cronografica a 200 rispetto ai 400 dei modelli successivi 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 al 1990 e il quadrante cosiddetto a quattro scritte al posto delle cinque quindi ci sono queste piccole caratteristiche che a tanti non diranno assolutamente nulla però per coloro che sono amanti degli orologi sono delle modifiche molto molto sostanziali che variano anche in maniera radicale quello che è il valore dell'orologio questo è un nello specifico è una una primissima una serie l l 23 come come referenza ed è del 1989 a questo orologio ho pensato di abbinare una macchina altrettanto particolare elegante ma di fascino indiscusso che è questa porsche 993 turbo del 1997 quindi siamo quasi coevi come hanno anche in questo caso una macchina straordinaria una macchina che manterrà il suo valore nel tempo anzi tenderà ad incrementarlo e sono quelle quegli oggetti come dico io senza tempo evergreen devo dire ho trovato questo questa similitudine fra questo particolare orologio e questa macchina perché hanno più o meno lo stesso come dire la stessa immagine la stessa impronta a questo punto passerei visto che parlavamo di zenith sempre cronografo questo è uno zenith del primero quindi la versione del 2022 quindi è una versione molto più attuale però il calibro è sempre quello appunto montato nel chiaramente evoluto montato sul day tenue che vi ho fatto vedere prima questo la caratteristica di questo movimento che ha 36.000 alternanze contro le 28.800 di calibri diciamo di ottima qualità e oggi è uno dei calibri cronografici migliori in assoluto senza andare a prendere magari marchi tipo patek philip o cose di questo genere diciamo stando su una fascia di alto mercato non altissimo mercato questo è veramente a livello tecnico uno del diciamo dei cronografi migliori in assoluto e ha una precisione al centesimo di secondo per cui veramente un pezzo tecnico veramente molto 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 notevole a questo orologio avrei abbinato a gusto mio chiaramente un altro classico che questa jaguar f type 2000 turbo che ha una linea veramente eccezionale anche in questo caso prende storicità dal passato già un'altra azienda estremamente la cui immagine è estremamente forte che prende appunto spunto dei modelli del passato e devo dire che questa questa carrozzeria l'ho già spiegato in alcuni video su macchine che noi abbiamo sulle quali noi abbiamo lavorato devo dire una delle più belle carrozzerie ehm fatti in questo recente adesso nel recente passato quindi trovo questa similitudine fra un un orologio eccezionale come appunto lo zeniter il primero con una una jaguar f type si coniugano perfettamente questo punto passerei a un altro orologio molto eh bello dal mio punto di vista estremamente bello sempre un cronografo in questo caso è un ivc il 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 portoghese eh con calibro di manifattura quindi un calibro fatto direttamente dalle ivc rispetto ai calibri precedenti che erano mutuati da eh è uno calibro eva questo è un calibro fatto direttamente dall'ivc la ivc è un'azienda tedesca che ha una storia notevole questo è un secondo me ha un'eleganza veramente fuori eh da ogni da ogni schema è veramente un orologio dal mio punto di vista elegantissimo ehm a questo tipo di orologio ho pensato di abbinare anche questo caso partendo dal concetto come dicevo prima sempre oggetti che vanno a riprendere una storia nel passato questa 124 spider che trovo sia eh una macchina estremamente interessante è l'unico peccato che la fiat ha fatto questa ehm questa joint venture con eh mazza eh a tiratura limitata è una macchina che secondo me è una delle più belle fiat fatte nel recente passato è un peccato che non sia stata come dire la produzione sia stata sospesa e tutti coloro che hanno questa macchina che non hanno fatto un fanno bene a tenersela e sono diciamo macchine che sono destinate a eh crescere di valore nel tempo quindi assolutamente eh un'ottima come dire un'ottima scelta e quei pochi fortunati che eh la possiedono almeno quelli che abbiamo visto che diciamo sulle quali abbiamo lavorato sono tutte macchine tenute benissimo tutte macchine i cui proprietari e gente eh generalmente appassionata non sono macchine da battaglia quindi assolutamente un'ottima ehm un'ottima scelta ehm io direi concluderei diciamo il la puntata di oggi presentandovi l'ultimo orologio anche questo caso un orologio veramente storico iconico questo è un omega speed master diametro da 42 anche in questo caso eh calibro di manifattura quindi un calibro mh che ha fatto un salto notevolissimo rispetto alle versioni precedenti che peccavano un po' in precisione questo invece è un calibro ehm certificato COSC per cui lo scarto giornaliero è al di sotto dei 5 secondi giornalieri generalmente dai 3 ai 4 secondi giornalieri quindi è una certificazione che denota una perfezione di meccanismo veramente eccezionale dicevo la storicità di questo orologio perché è stato utilizzato nel 1969 nella prima missione Apollo quando l'uomo è sbarcato sulla Luna quindi eh agli astronauti di allora erano state consegnati questi orologi che sono rimasti nella nella come dire nel ricordo e nelle sono collegati direttamente questa impresa unica e omega direi che è l'unica casa che si può freggiare di questo genere di ehm diciamo di di caratteristica peculiare eh orologio estremamente preciso eh iconico direi perché veramente ha una storia che nessun altro orologio può vantare perché ovviamente non è che possono andare una seconda volta se adesso progetteranno in una red sulla Luna una una nel prossimo futuro e da quello che mi risulta è sempre omega il il fornitore di orologi che ovviamente sfrutterà poi commercialmente questo questo tipo di impresa. A questo tipo di eh orologio ho pensato di abbinare mi dispiace per la foto piccola perché un' un'icona nel mondo automobilistico che questa lancia delta ufficiale gruppo A lancia delta evoluzione in versione in in versione ufficiale gruppo A veramente macchina eccezionale che abbiamo avuto il piacere l'onore di 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 avere in ufficina ormai stiamo parlando di quasi una quindicina di anni fa 12 15 anni fa una macchina così non abbiamo mai vista diciamo è quasi eh al limite per la circolazione stradale proprio una macchina ufficiale gruppo A eh eh diciamo targata ai limiti della della circolazione stradale però devo dire è una macchina straordinaria mai vista una cosa di questo genere tenuta in maniera impeccabile da un collezionista che ha veramente tantissime macchine storiche che ci ha fatto l'onore di fare alcune modifiche di poter fare alcune modifiche su questa macchina perché abbiamo avuto il piacere di poter osservare da vicino una una macchina di questo genere io direi che per oggi è tutto mi piacerebbe sentire i vostri commenti se diciamo questo tipo di rubrica vi dovesse interessare possiamo farne altre facendo sempre appunto degli abbinamenti particolari trovando un'assonanza particolare tra quello che sono appunto gli orologi sempre ripeto un po' eh fuori dalle righe con altrettante macchine che con le quali si può trovare una semplice vi direi per il momento è tutto aspetto i vostri commenti un saluto alla prossima